Dalla terrazza Colombo di Genova, Primo Canale presenta Masse che penso, eseguita dal maestro Riccardo Pasquini, prima tromba dell'orchestra del teatro Carlo Felice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per questo straordinario regalo che ci ha fatto. È stato un momento emozionante per chi, i pochi che erano qui, ma quelle anche persone che erano affacciate dai terrazzi hanno fatto un sonoro applauso e quindi veramente grazie. Intanto le chiediamo come sta passando queste ore anche lei a casa, ovviamente la musica le fa compagnia, i vicini sono un po' arrabbiati. Di sicuro devono sopportare tutti noi professionisti del settore che siamo molto rumorosi e quindi un ringraziamento a tutti i vicini di Genova e poi niente, si studia, si passa in famiglia il tempo, ci prepariamo al nostro ritorno quando tutto sarà passato. Ci si tiene in allenamento, la musica sicuramente fa compagnia in queste ore non soltanto a chi la suona ma anche chi ama ascoltarla. E allora le chiedo un consiglio, che cosa si può ascoltare a casa in queste ore per lei? Ma sicuramente, come ha detto prima il sovrintendente, di collegarsi allo streaming del teatro che trasmette sempre cose che abbiamo fatto, opere, sinfonico e poi niente, di coltivare la passione della musica con quello che più vi piace, rock, jazz, quello che volete insomma. Che cosa ascolta la prima tromba dell'orchestra del Carlo Felice quando è da solo a casa? Normalmente le Zeppelin e Jimi Hendrix.